Si chiamava Fatini Davila Sosa, aveva solo 31 anni di età, era stata Mix Universo Uruguay, un titolo che vinse nel 2006, lavorava come modella, purtroppo è stata trovata priva di vita, quindi morta nel bagno dell'albergo in cui alloggiava la città del Messico, capitale proprio di questa nazione del Centro America, precisamente nel popoloso quartiere che ha chiamato Napoles, dove si trovava per via di un lavoro. Era anche abbastanza famosa in Messico, non si sa se si può parlare di un suicidio, di un omicidio, la polizia sta cercando di indagare per capire esattamente come sarebbero andate le cose. Sembra che la donna, che aveva ripeto 31 anni di età, sarebbe stata trovata con un cappio alla gola e si avrebbe il sospetto che si potrebbe trattare di un omicidio. Ad allettare le autorità sarebbe stato il personale dell'albergo che ha visto il cadavere della donna in camera durante la pulizia della camera. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, datemi la vostra opinione. Un saluto caro a voi e Fatimi Davila Sosa riposi in pace. Amen.